Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo qui a inizio anno, inizio 2025 e voglio farvi vedere quanto ha prodotto il mio impianto fotovoltaico. Sarà un video recensione che non potrà essere uguale per tutte le altre persone che hanno un impianto fotovoltaico simile al mio. Il mio impianto è fatto da un inverter della ZCS o azzurro, chiamatelo come volete, è composto da dei pannelli da 380 watt, abbiamo un impianto che sviluppa 6 kilowatt, un accumulo con tre batterie della UECO da 5 kilowatt, quindi 15 kilowatt di accumulo che poi sapete che non si ricaricano mai del tutto, non si scaricano mai del tutto perché adesso ha sempre un 20 per cento di sicurezza, quindi quel 15 kilowatt meno il 20 per cento sarebbero 13 kilowatt effettivi di accumulo, che se tornassi indietro farei anche qualcosina in più ancora di accumulo e poi vi spiegherò il perché. Bene, perché vi faccio questo video? Voglio farvi vedere quanto ha prodotto, quanto abbiamo risparmiato e come è andata nel 2024, non è stato un anno buono come il 2023. Perché questo? Perché è stato molto più piovoso il 2024, ci sono state anche settimane e settimane di pioggia o di nuvolo, oppure di nebbia, e a differenza del 2023 è stato un anno che al momento del bisogno, cioè tipo marzo, quando dovrebbe fare la maggior produzione, quando in primavera partiamo i pannelli sono più freddi e comunque anche abbiamo il sole che inizia a spingere, lì è mancato tantissimo il sole, quindi abbiamo fatto se non sbaglio quasi due settimane di pioggia e nuvola. Poi in aprile stessa cosa, poi giugno, luglio, agosto è andata bene. Bene, cos'è che voglio farvi vedere? Voglio farvi vedere come è andata, quanta energia abbiamo consumato, quanto ne abbiamo prodotta e quanto ne abbiamo accumulata grazie alla batteria. Quindi conviene o non convengono le batterie? Per me sì, sempre. Però è logico che c'è una spesa iniziale che magari qualcuno dice no, io non voglio fare quell'investimento là, quei soldi là li spendo per qualcos'altro e ben venga, cioè nel senso che ognuno regiona a modo suo. Io ho voluto investire nelle batterie anche perché comunque c'è una detrazione del 50% che stanno tornando. Benissimo, quindi siamo in pianura padana, siamo dove c'è sempre quando c'è la nebbia, c'è sempre. Siamo in provincia Venezia vicino a Caorle e cos'è l'altra cosa che volevo dirvi? Ieri c'è stato un caso, ad esempio, un mio amico che abita in montagna, lui ha sempre un impianto a 6 kilowatt, lui ieri aveva prodotto quasi 13 kilowatt di corrente, noi abbiamo prodotto i 5 perché qui c'era la nebbia fino alle 11 e poi è tornata dalle 2 del pomeriggio. Quindi quel poco che ha prodotto sono stati 5 kilowatt, quasi la metà. Quindi questo video va bene? sì, ma è giusto per farvi capire che l'Italia non è tutta uguale e quindi i dati non sono tutti uguali, anzi basta spostarsi di 50-60 chilometri e già le cose cambiano. Bene, adesso io vi metterò il display che vedete qui e vi faccio l'analisi diretta diciamo di cosa abbiamo fatto. Allora questo è l'analisi del 2024 come vedete abbiamo prodotto la bellezza di 7056 kilowatt ora, il 55 per cento è stato autoconsumato, come vedete 3897 kilowatt consumati, quindi facciamo che fossero anche 4000 kilowatt al 30 centesimi al kilowatt ora siamo intorno ai 1200 euro. Poi abbiamo caricato la bellezza della batteria 2247 quindi abbiamo recuperato questa energia per poi consumarla, 2247 kilowatt anche lì se ne moltiplicate per 30 centesimi sono intorno ai 600 e qualcosa euro in un anno. Energia immessa 912 kilowatt quindi abbiamo messo nella nostra linea quindi ci verrà pagata da l'ente che deve pagare, 912 kilowatt che non sono di sicuro ai 30 centesimi. Bene, questa come vedete qua nel grafico è gennaio 2024, vedete energia immessa 6 kilowatt pochissima, caricata a 120 kilowatt, autoconsumata a 138 e così andiamo avanti. Febbraio che è piovuto tantissimo, marzo, ricordatevi questi dati qua di marzo siamo a poco più di 400, dovrebbe essere 480 circa, poi abbiamo aprile, maggio, giugno, guardate luglio quanto ne ha prodotte, quanto abbiamo consumato perché a casa mia abbiamo anche i pannelli fotovoltaici ma abbiamo quattro climatizzatori quindi due split perché la casa è grande, abbiamo la macchina elettrica quindi una twingo elettrica che all'incirca ho consumato abbiamo fatto 11 mila chilometri quindi dentro questi dati che vedrete sono gli 11 mila chilometri anche dell'auto perché l'ho sempre ricaricata a casa e in questi mesi qua da aprile fino a settembre diciamo che quello che ho prodotto ho anche consumato anche quindi la ricarica dell'auto elettrica tra virgolette è gratuita nel senso che ho fatto l'impianto fotovoltaico ok abbiamo speso in più per l'auto però le ricariche sono fatte dall'energia quindi trasformata l'energia del sole in energia partiamo dal 4 fino al 9 quindi una buona metà dell'anno è che viene ricaricata così se adesso io cambio qua metto 2023 faccio visualizza vedete che i dati sono diversi anche qui vedete che giugno è più alto di luglio perché giugno era stato bel tempo e ha prodotto tantissimo a differenza di luglio eccetera quando fa tanta luce cioè anche giugno e luglio quando c'è tanto caldo i pannelli non è che lavorano meglio perché c'è tanto caldo i pannelli lavorano meglio quando le temperature sono medie nel senso 20 25 30 gradi al massimo poi iniziano ad andare il sull'iscaldamento quindi tanti che pensano che quando c'è tanto caldo i pannelli vanno meglio non è così va meglio quando ci sono le temperature medie che riescono ad essere efficienti molto più alti e questo è stato vedete che anche febbraio l'anno scorso abbiamo fatto di più guardate marzo solo marzo che di là non eravamo poco più di 400 kilowatt qua siamo arrivati a 600 addirittura aprile siamo arrivati a 800 e passa kilowatt di produzione eccoci qua quindi questa anche l'anno scorso come vedete la differenza abbiamo recuperato comunque sempre 33 per cento di grazie alle batterie quindi calcolate più o meno un 33 35 per cento devo vedere 2024 che non ricordo il dato preciso 32 per cento quindi abbiamo recuperato grazie alle batterie il 32 per cento di energia dimenticavo che all'interno della casa abbiamo anche una pompa di calore che ci fa l'acqua sanitaria quindi da calcolare anche questo e questo è stato quello che abbiamo fatto in totale bene quindi adesso ho messo un attimo in pausa perché pensavo di trovare certi dati dentro il computer invece devo farmi aiutare dall'applicazione dello smartphone quindi adesso vi farò vedere anche lo schermo qui dello smartphone magari ve lo metto qui a fianco e andiamo a vedere appunto l'analisi di oltre alla produzione che qui vediamo andiamo a vedere quanto riguarda proprio quanto abbiamo prodotto quanto abbiamo consumato e com'è andata ci sono dei dati un po più precisi cioè abbiamo più dati dentro l'applicazione è l'applicazione sua di azzurro quindi adesso vi metto lo schermo e andiamo qui sotto in basso vedete questo è quello che sta facendo oggi e adesso beh questa è in diretta praticamente sta producendo 384 kilowatt la casa sta consumando 9 14 la batteria è al 20 per cento ma è come se fosse a zero perché non sta caricando sono le 9 24 di mattina del 2 gennaio quindi fuori è nuvoloso sì c'è sempre quella nebbia che è sempre lì continuo bene cos'è che andiamo a vedere andiamo sulla fogliolina qui qui c'è scritto 2 gennaio come vedete oggi adesso io vado a mettere anno mettiamo 2024 selezioniamo eccoci qua e questo è il consumo che vedete che sono dati diversi perché io dovrei andare sulla produzione quella che era prima ma qua andiamo a vedere il consumo il consumo dalla batteria abbiamo recuperato il 27,6 per cento dalla rete abbiamo consumato 25 per cento quindi non abbiamo il totale ok quindi quando dicono andate a zero non è vero abbiamo sempre bisogno della rete elettrica quindi in questo caso qua abbiamo recuperato dalla batteria il 27,6 per cento il 47 per cento direttamente dal solare e abbiamo un autoconsumo del 74,70 per cento quello che voglio farvi vedere io adesso vediamo anno 2023 ricordatevi 74 per cento vado qui e qua vedete che è diverso 76,80 per cento non è male come autoconsumo e sono sicuro che paesi al centro Italia o al sud Italia questo autoconsumo è nettamente superiore per il problema sempre della nebbia o del tempo che abbiamo qui al nord adesso torniamo nel 2024 che è l'anno che ci interessa nel 2023 ho già fatto il video eccoci qua allora energia prelevata dalla rete 1828 kilowatt energia autoconsumata 5391 energia autoconsumata dal sole 3395 e della batteria 1900 sì sono i 2000 kilowatt che parlavamo prima quindi cosa posso dirvi io dopo questo allora andiamo a vedere altre analisi se riusciamo questo è stato anno 2024 selezioniamo e qui andiamo a vedere il grafico che abbiamo visto prima di là semestre qua addirittura diviso in semestri vedete che le cose cambiano 2024 quindi è proporzionato anche come metà anno sia fino a giugno che da giugno a dicembre è abbastanza continuo diciamo bene quindi signori non so se vi ho annoiato un po' con questi dati però sono i dati che alla fine di un anno quindi abbiamo un anno intero di spiegazione di dati di quanto è stato prelevato autoconsumato non ripetere stiamo parlando di una casa dove abitiamo in 5 barra 6 con la pompa di calore per quanto riguarda riscaldamento di acqua sanitaria solo acqua sanitaria abbiamo il piano induzione abbiamo l'auto elettrica e quindi io sinceramente sono soddisfatto di questo impianto è logico che sarebbe da spostarlo dove non c'è la nebbia ma purtroppo abitiamo qui e quindi la nebbia c'è fa parte del nostro del nostro meteo del nostro paesaggio e niente da fare una precisazione devo ripetere che auto elettrica i climatizzatori che sono quattro la pompa di calore il piano induzione e tutto quello che va dietro ormai siamo quasi tutto in elettrico non è male c'è stato un bel risparmio cioè se andiamo a vedere 4000 kilowatt autoconsumati poco più ok moltiplicato per 30 centesimi vedete quanti soldini sono insomma non sono male quanto ci vuole ad ammortizzarlo l'impianto dobbiamo far conto delle detrazioni degli incentivi che ci sono adesso il costo dei pannelli fotovoltaici sono scesi le batterie sono scese e tutto quanto e quindi a me si a volte dice la produzione guarda i consumi però già sapere che mi sto auto producendo la corrente elettrica e la sto auto consumando non è male cioè è un bel è una bella cosa insomma per noi per l'ambiente per tutto quanto e anche per i soldini che poi dalle bollette quindi signori spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al canale gratuito basta che premete il tasto iscriviti e attivate il tasto delle notifiche grazie a tutti arrivederci ciao ciao ciao